Abbiamo con noi in redazione l'assessore al commercio del Comune di Piacenza, Simone Fornasari. Buongiorno Simone, benvenuto. Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Parliamo di questo progetto che avete presentato ieri sera ai commercianti del Centro Storico. Di cosa si tratta? Il Comune di Piacenza ha promosso un progetto di collaborazione tra le autorità competenti, le associazioni di categoria di settore, Unione Commercianti, Confesassenti, CNA e i commercianti interessati che si sono presentati, che sono stati anche numerosi, al fine di costituire gruppi di vicinato del commercio a ventillo scopo di favorire un po' la sicurezza urbana del Centro Storico di Piacenza. Come dovrebbe migliorare la situazione con questo progetto? Attualmente i gruppi di vicinato attivi sono 26. Il lavoro che è stato fatto dai colleghi, dall'assessore Buongiorni, da quello che è stato fatto anche dalla polizia locale, è stato un lavoro molto importante che ha dato un esito molto positivo e un risconto propedeutico sul tessuto sociale. Abbiamo pensato di utilizzare questo modello attraverso chi vive il centro storico all'interno delle proprie attività, i commercianti. Specifichiamo che un gruppo di vicinato non si sostituisce all'attività delle forze dell'ordine, ovviamente, e di polizia, ma costituisce una modalità di coinvolgimento attivo e partecipe delle persone nella cura e nell'attenzione al territorio. La partecipazione crediamo sia fondamentale, altrettanto doveroso sottolineare che c'è stato un grandissimo lavoro di tutte le forze dell'ordine sul nostro territorio, che può essere sicuramente un supporto, una collaborazione propedeutica appunto di cittadinanza attiva nel costruire un progetto di comunità. I commercianti sono stati collaborativi in questo senso? Sì, c'è stata un'ottima collaborazione, sono già le persone, sono state numerose le persone che si sono messe già a disposizione dalla serata di ieri, confidiamo che poi altre vorranno aderire al progetto, perché poi come tutte le cose all'inizio si tratta anche poi di tarare un po' il tiro, di conseguenza sappiamo e siamo consapevoli che comunque i commercianti hanno molteplici esigenze, il tema focale è sempre quello di favorire la sicurezza, poi ci sono anche altre situazioni periferiche parallele che possono diventare comunque uno strumento di condivisione e di risposta tra amministrazione e privato in un modo condiviso e partecipe reattivo e partecipativo. I centri storici non sono a Piacenza, sono il cuore del territorio. Come sta vivendo il nostro centro storico a questo momento ancora non semplicissimo? Il momento è complicato, questo è inutile nascondersi dietro un dito, ci sono i dati che parlano, sappiamo che comunque Piacenza non è la sola città ma perché questa è una situazione critica a livello proprio nazionale, usciamo da una fase complicata come quella dell'emergenza sanitaria, poco dopo si è rientrati in un'altra fase altrettanto complicata come quella inficiata soprattutto della situazione geopolitica dettata dal caro utenze che chiaramente ha piegato tantissimo il settore, ha diminuito anche il potere d'acquisto all'interno della filiera, di conseguenza tutto il sistema ne ha risentito. Quello che possiamo fare come amministrazione, quello che dobbiamo fare come amministrazione è cercare di mantenere attivo l'ascolto, provare a proporre attività, eventi che possano promuovere la propulsività della rete commerciale, incentivare chiaramente tutto il sistema, provando a essere chiaramente un unico interlocutore, quando parlo unico interlocutore tengo in considerazione ovviamente le associazioni di categoria, tutte le associazioni di commercianti, i commercianti stessi, perché solamente insieme si può cercare di trovare una forza che in questo momento storico è necessaria e fondamentale. E speriamo insomma presto di parlare di nuove aperture e non di chiusure inevitabili, come giustamente diceva lei in questi anni davvero molto molto difficili. Grazie a Simone Fornasari, l'assessore del Commercio del Comune di Piacenza per essere stato insieme a noi, buon lavoro e buon proseguimento. Grazie, grazie mille a tutti voi, buon lavoro e buona giornata. Grazie a tutti.